Salve bibitine bibitini e benvenuti in questo nuovo video. Cosa molto importante prima di cominciare vi voglio dire infatti che nel primo commento potete trovare il link per il mio canale Viola. Vi aspetto su quella piattaforma per live fuori di testa, contest, anteprime e molto molto altro. Vi ricordo il link è qua sotto. Detto ciò oggi siamo qui con la seconda parte del video acquisti di novembre 2021 e per quanto questo contenuto non sia ricco quanto il suo predecessore preparatevi perché c'è davvero moltissima carne al fuoco. Quindi correte in cucina a prendere dei popcorn e una bibita fresca. Per gustarvi meglio quest'ultimo video del vostro Malta perché oggi vi andrò a far vedere quello che ho comprato alla fine di questo mese ma prima di far ciò come sempre mandiamo la nostra fantastica sigla. E come da prassi ormai per questa tipologia di video vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per Mangame, sito di e-commerce che vende manga e qualche figures. E col codice supporto Malta oltre a supportare il sottoscritto avrete diritto come da prassi del sito al 5% di sconto su tutto il catalogo e la spedizione gratis sopra i 30€. Che cosa state aspettando? Andate a prendere qualcosina e direi che finalmente possiamo iniziare partendo da Planet Manga. We Never Learn numero 18 edito ovviamente dalla Planet al prezzo di 4,90€. Ecco a voi la stupenda cover di questo numero con Risu Ogata in primo piano. Se devo essere sincero questa serie è un pochino gli Zebedee me li ha fracassati. Però cosa vogliamo fare? Siamo arrivati al diciottesimo numero su 21 e non mi sembra proprio il caso di stopparla. Cercherò comunque di sforzarmi e di leggerla. Ma sappiate che come dico sempre è un romance come tanti altri e in giro potete trovare sicuramente di meglio. Rimane comunque una lettura leggera che potete fare ovunque, sull'autobus, sul cesso e in tantissimi altri luoghi diversi. Nota positivo ovviamente sono i disegni di Taishi Tsutsui, sempre molto carini. E detto questo possiamo andare avanti. Konosuba, volume numero 5, stessa casa editrice, stesso prezzo, 4,90€. Ed ecco qua la cover con Yunyun in primo piano. Ho già avuto modo più volte di parlare del mio amore per quanto riguarda questa serie, soprattutto la sua versione anime. Il manga per quanto carino presenta notevoli difetti. Tuttavia in questo numero inizierà la mia saga preferita, che preparatevi sarà davvero folle, perché tra doppi sensi e situazioni ambigue ne vedrete davvero delle belle. In ogni caso, come già accennato qualche secondo fa, vi consiglio di recuperarvi l'anime e non la sua controparte cartacea, perché è davvero 10 spanne sopra. E come già accennato più volte, secondo me uno dei punti a spavore è il design dei personaggi davvero troppo cibi. E arriviamo ora a una delle due dimenticanze del video precedente. Se vi ricorderete bene, infatti, avevo accennato al fatto di non essere riuscito ad accaparrarmi in quel momento il bundle beginning da Attack on Titan, ma oggi sono qui per ovviare a quel problema. Ed eccomi qui infatti con i due volumi, pagati 14,90€. Ecco a voi la stupenda cover del volume nella sua edizione Variant. Questa invece è quella del beginning. Effettivamente ne ho già parlato nello scorso contenuto, ma voglio aggiungere un paio di cose. La prima roba che voglio dirvi è che ho avuto modo di leggere appunto il finale di Attacco dei Giganti e mi ha soddisfatto al 100%, molto bello e coerente con quello che l'autore aveva pensato. Purché io abbia trovato una scena particolarmente cringe, non voglio dire quale per evitare di spoilerarvi, ma penso abbiate capito. La seconda cosa è che secondo me il bundle merita soprattutto per questo mini volume che contiene i bozzetti dei primi capitoli disegnati da Isayama. E servirà infatti a vedere le fasi iniziali di stesura per quanto riguarda la sua serie. Molto carino, mi è piaciuta davvero tanto questa idea proposta da Planet. Ed ecco a voi un piccolo esempio di sketch. Mi raccomando se siete fan di quest'opera non lasciatevi sfuggire questo bundle perché è davvero tanta tanta roba. E ora possiamo spostarci in casa Star Comics. L'unico volume all'attivo per quanto riguarda questa casa editrice è il 99esimo volume di One Piece in edizione speciale. Ed eccolo qui al prezzo di 6,90€. Ammiratelo in tutta la sua bellezza. Poco da dire anche in questo caso, se volete sapere come sono messo col manga di Eiichiro Oda, corretta a recuperare il mega acquisti manga del mese di novembre. E dopo questa velocissima parentesi direi che andiamo in casa J-Pop. Il primo acquisto è il volume numero 4 dei Diari della Speziale, edito ovviamente da J-Pop al prezzo di 6,50€. Questa è la sua cover. Questa serie è stata forse una delle più grandi sorprese di tutto il 2021, in quanto propone una storia davvero avvincente e una protagonista davvero carismatica. Mao Mao è infatti un personaggio davvero ben concepito, ben sotturato, ma soprattutto caratterizzato dal suo autore alla perfezione. E riuscirà sin dal primo volume a farsi voler bene da chi non stia leggendo i manga dei Diari della Speziale. E non vedo anche davvero l'ora di poter leggere il primo volume della sua light novel portata in Italia appunto dalla nuova casa editrice Dokusho. Comunque se state cercando un qualcosina di diverso, secondo me questa serie potrebbe fare al caso vostro, perché è molto molto carina. E finalmente la waifu suprema è arrivata anche in Italia, pronta a conquistare schiere e schiere di appassionati. Ho aspettato davvero tanto l'uscita di questo bundle e finalmente sono davvero felice di averlo tra le mie mani. Parlo appunto del cofanette contenente Bunny Girl Senpai e Petit Devil Kohai. Edito ovviamente da Jpop, il tutto al prezzo di 26€. Ecco qui la parte frontale del box ed ecco a voi la parte posteriore. Ecco a voi la cover di Bunny Girl Senpai volume numero 1, numero 2, passiamo poi a Petit Devil Kohai numero 1 e infine il 2. Scusate se in certa occasione ho pronunciato male la parola Petit, ma io ho fatto spagnolo, il francese non l'ho mai toccato, quindi va così la cosa. Comunque la waifu suprema ovviamente è mai Sakurajima, il personaggio che potete trovare in copertina. E non fatevi ingannare, nonostante il nome questa serie è molto più introspettiva di quanto possa sembrare. Sì, non nego sia presente una piccola dose di fanservice, ma non lasciatevi traviare da quello che le apparenze fanno trasparire, poiché si tratta di un manga molto profondo che affronta numerosissime tematiche, abbastanza delicate. I quattro volumi infatti che compongono il cofanetto vanno ad approfondire i primi due archi narrativi dell'anime e della light novel, che sono sicuramente tra i migliori di tutta la serie. L'unica cosa che non mi è piaciuta tanto di questo adattamento italiano, ma penso sia una problematica comune a tutte le edizioni di tutto il mondo, è il fatto che i numeri ricominciano da capo ad ogni fottutissima storia. Quindi avremo Bunny Girl Senpai 1 e 2, Petit Devil Kohai 1 e 2, Katsiemazzi 1 e 2 e così via. Ma vi ripeto, è un'opera davvero molto carina e soprattutto, come già accennato, all'inizio contiene la best waifu di tutto il mondo. Penso non ci sia davvero nulla da dire. My son, ti prego, sposami, non vedo l'ora di poterlo leggere. Ecco, l'ho detto. E ora ci spostiamo in casa Ikari. Voglio fare una piccola premessa per quanto riguarda i volumi che vedrete da qui in poi. Come già accennato più volte, infatti, il video acquisti è un recap di tutto quello che ho preso nel corso di questo mese. Di conseguenza è normale trovare all'interno di questi video acquisti già visti magari nei video unboxing oppure nei recap delle fiere. Detto ciò, ora vi mostro i primi due volumi di Gannibal. Eccoli qua in tutta la loro bellezza al prezzo di 7€. Ecco a voi la stupenda copertina del numero 1 e numero 2. Ho già avuto modo di leggerlo e posso affermare con assoluta certezza che è una serie con i controcoglioni. La trama è davvero spettacolare, i personaggi sono uno più folle dell'altro, ma soprattutto i colpi di scena si susseguono con una rapidità assurda. E vi giuro, facevo fatica a smettere di leggere. I disegni poi del suo autore sono un qualcosa di davvero meraviglioso. E adesso vi faccio vedere qualcosina, non temete. Spettacolo puro. Penso possiate essere d'accordo con me. Prima di passare oltre vi voglio parlare un attimino della trama, dato che mi sono dimenticato sì, di farlo qualche secondo fa. La storia parla appunto di questo poliziotto che insieme alla sua famiglia si trasferisce in questo villaggio di campagna, che all'apparenza sembra essere molto tranquillo. Ma in verità è tutt'altro che così. Inizieranno una serie di misteri, omicidi e sparizioni. E da qui poi incomincerà la nostra trama. Ora le cose si faranno un pochino piccantine e frizzantine, perché ci spostiamo in casa Magic Press. Radio filler numero 4, al prezzo di 6,90€. Ed ecco nel dettaglio la cover. Io non so più cosa dire, mi piace, penso questo sia abbastanza e nella sua follia è riuscito a sorprendermi particolarmente. Provatelo, ma il che vada vi fa schifo, lo rivendete o lo lanciate da qualche parte. O lo usate come legna da camino. E ora passiamo a un vero e proprio manga di cultura. Ho voglia di te. Edito dalla Magic Press, ha il prezzo di 9,95€. Non posso farvi vedere la cover, ragazzi. Rischierei il bando alla piattaforma. Che cos'è? È un entai. Cosa fanno? Trombano. Cosa volete sapere di più? Nulla, perché essenzialmente non c'è una storia. L'unica cosa che fanno durante le pagine è chiavare. E dunque, perché prendiamo in tai? Perché vogliamo vedere pipi durissimi e belle tette? Posso assicurarvi che merita, quello sì. E dunque, questi erano gli acquisti manga del mese di novembre, parte 2. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto cosa vi siete comprati. Detto ciò, il video si può concludere qui. Io spero vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a mettere un mi piace, bla 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 bla. Vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per il gruppo Telegram e per la pagina Instagram. Vi aspetto su quelle due piattaforme, mi raccomando. Ma soprattutto, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati. Quindi, noi ci salutiamo e possiamo vederci in un prossimo video. Ciao!